Da giovani, Chiara Valentini. La campagna toscana è giovane. A certificarlo è l'aumento delle imprese agricole guidate da under 35 e aumentate del 2,2% rispetto al 2019. Sono 2.746, 4.336 quelle under 40. I dati li ha forniti col diretti Toscana in occasione degli Oscar Green consegnati a Firenze alle imprese agricole più dinamiche, innovatrici e sostenibili. Il titolo dell'evento, Generazione in Campo, ha riconosciuto esperienze imprenditoriali che vanno dall'agricosmetica anti-age a base di kiwi, alla start-up che salva gli olivi, al pastore che produce formaggi sul mare, fino al nuovo welfare rurale dell'Oasi della Felicità. C'è poi il contadino resiliente che coltiva patate e alleva bovini di razza garfagnina, fino agli obiettivi di autonomia energetica di un'azienda forestale del Mugello. Quello che è emerso è che la multifunzionalità è caratteristica del modello toscano. La nuova generazione di agricoltori, insomma, non si limita a coltivare la terra, concetto già impegnativo di per sé in ogni sua declinazione, ma ci aggiunge il turismo, sostenibile, la produzione di energie rinnovabili, l'attenzione al sociale, l'inserimento in mercati, anche diversi da quello alimentare. Il risultato è che le imprese under 40 vanno a velocità doppia rispetto a quelle guidate dalla generazione precedente. Sono inoltre, come si dice, ragazzi che hanno studiato. Il 25,9% è laureato o diplomato contro il 12,4% dei capoazienda con età superiore a 40 anni.